Perché a volte sentiamo una connessione così profonda con qualcuno fin dal primo sguardo? Che magia si cela dietro questa esperienza? Oggi, insieme, scopriremo le risposte che ci porteranno a comprendere il potere dell'attrazione. Siamo qui per esplorare il terreno fecondo dell'anima, per afferrare l'impalpabile misticità dell'universo. Siete pronti a scoprire la forza che collega le anime, a sentire la connessione che brucia dentro di voi? Perché a volte ci sentiamo istantaneamente attratti da qualcuno. Ciò che ci attrae non è solo l'aspetto esteriore, ma l'energia sottile che ogni essere emana. Quando incrociamo lo sguardo di qualcuno e sentiamo quella scossa e elettrizzante attraversare il nostro corpo, è l'energia che si intreccia in modo misterioso. È come se le nostre anime si riconoscessero e si sussurrassero nell'orecchio segreti antichi, trasmettendo un messaggio di connessione profonda che va oltre le parole. È un richiamo dell'anima che ci spinge a esplorare e scoprire il significato dietro questa connessione magica. Ogni incontro, anche il più fugace, può scuotere le fondamenta del nostro essere e aprirci alla possibilità di un legame che supera le convenzioni della realtà quotidiana. Le anime si incrociano nel corso del tempo, intrecciando i loro destini in una trama intricata. C'è una memoria profonda che risiede in ognuno di noi, una memoria delle esperienze vissute in passato, nelle vite che abbiamo attraversato. È come se ci fossero frammenti di storie condivise, legami che si sono formati molto prima che noi entrassimo in questa esistenza. Questa memoria delle anime può manifestarsi in modi sottili, attraverso sguardi intensi, sintonia emotiva o sensazioni di déjà vu. È come se i nostri cuori e le nostre anime riconoscessero istantaneamente l'energia dell'altro. Perché in qualche modo siamo stati connessi in passato. Le anime emettono una melodia unica, una sinfonia di energia che risuona nell'universo. Questa melodia, questa frequenza unica, crea una risonanza che può essere percepita da coloro che sono aperti ad ascoltare. È come se le nostre anime fossero accordate su una stessa lunghezza d'onda, creando una connessione profonda e vibrante. Quando siamo in presenza di qualcuno con cui condividiamo questa risonanza dell'anima, qualcosa di magico accade. I nostri cuori si aprono e le barriere si dissolvono, lasciando spazio alla connessione autentica e profonda. La risonanza dell'anima ci parla di una profonda affinità, di una comprensione reciproca che va oltre le superfici. È un'energia che ci spinge a esplorare la bellezza di chi siamo veramente, a mostrare la nostra vulnerabilità e ad accogliere l'essenza dell'altro con amore e accettazione. E quando siamo in sintonia con la risonanza dell'anima, siamo in grado di riconoscere e onorare la bellezza unica di ogni individuo che incontriamo lungo il nostro cammino. L'intensità dell'esperienza che proviamo quando ci connettiamo in modo magico con qualcuno va oltre i confini del tempo e dello spazio. È un'esperienza che ci travolge, ci affascina e ci spinge a esplorare i confini della nostra stessa anima. Quando sentiamo questa connessione intensa con qualcuno, i nostri sensi si amplificano. Ogni sguardo, ogni tocco, ogni parola diventa un'esperienza sensoriale che ci fa vibrare. Siamo in grado di percepire le sfumature più sottili delle emozioni, di cogliere l'energia che si scambia tra noi e l'altra persona. Questa intensità ci spinge ad aprirci completamente, a metterci in gioco senza paura. Ci permette di mostrare la nostra vera essenza, di esplorare i nostri desideri più profondi e di vivere momenti di autenticità e passione. È come se il nostro cuore si aprisse a un nuovo livello di consapevolezza e di esperienza umana. Ma l'intensità dell'esperienza non è solo gioia e felicità. Può anche portare con sé la sfida e la vulnerabilità. È un viaggio che ci mette alla prova, che ci costringe ad affrontare le nostre paure, i nostri blocchi e le nostre insicurezze. L'intensità dell'esperienza è un dono prezioso, che ci spinge a esplorare l'infinita complessità dell'animo umano. Un fattore fondamentale che ci accompagna nella conoscenza di una connessione magica è l'amore. La magia dell'amore è un'energia potente e trasformatrice, che ci avvolge e ci ispira in modi che vanno al di là della comprensione razionale. È una forza universale che ci unisce, che ci connette al di là delle differenze e delle distanze. Quando ci innamoriamo, sperimentiamo la magia di un'attrazione che va al di là dell'aspetto fisico, che abbraccia l'anima e ci lega in modo indissolubile. L'amore ci trasporta in un mondo di emozioni profonde e intense. Ci fa sentire vivi, ci fa sentire completi. È un sentimento che risveglia la nostra creatività, che ci spinge a esprimere la nostra bellezza interiore e a donarla al mondo. Ci apre a nuove possibilità e a nuove prospettive e ci aiuta a scoprire lati di noi stessi che forse non conoscevamo. La magia dell'amore ci insegna che non esistono confini per la connessione umana. L'amore può nascere ovviamente in diverse situazioni. Un'amicizia duratura, un amore appassionato o persino un incontro casuale che cambia le nostre vite. Quando due persone si connettono in modo così profondo, si crea una sinergia unica che va al di là di ciò che possiamo spiegare razionalmente. Le connessioni si basano sulla comprensione reciproca, sulla condivisione di valori e di interessi, sulla fiducia e sulla capacità di essere autentici l'uno con l'altro. Le connessioni magiche possono essere un dono prezioso che arricchisce la nostra esistenza. Ci fanno sentire vivi, ispirati e ci ricordano che non siamo soli nel nostro cammino. Quando incontriamo qualcuno con cui condividiamo una connessione così profonda, è come se una parte di noi trovasse finalmente il suo posto nel mondo. Quando ci apriamo all'amore, siamo testimoni della magia in ogni singolo istante. Non permettere che la paura o il cinismo ti allontanino dalla meraviglia dell'amore. Abbracciala con tutto il tuo essere e lasciati trasportare da essa. Sii consapevole delle connessioni che ti circondano, delle persone che incrociano il tuo cammino e dei momenti che ti toccano profondamente. Ogni incontro, ogni abbraccio, ogni sorriso, può essere un piccolo pezzo di magia che alimenta la tua anima. Quante volte ti sarà capitato di avere una brutta giornata, ma ad un certo punto il sorriso di un bambino, con quella purezza e quella spontaneità, ti abbia fatto cambiare atteggiamento nei confronti della vita. Non sottovalutare il potere di un semplice gesto d'amore, perché può cambiare tutto. La magia dell'amore è reale. Non smettere mai di credere in essa e di coltivarla nel tuo cuore. Lascia che la sua luce risplenda attraverso di te, irradiando amore e gentilezza in tutto ciò che fai. La connessione magica che senti con qualcuno è un dono prezioso. Nutrila, coltivala e condividila con il mondo. Sii la prova vivente della magia dell'amore e ispira gli altri a fare lo stesso. La magia dell'amore è qui, ora. È il legame invisibile che ci tiene uniti e ci ricorda che siamo parte di qualcosa di più grande. Grazie per averci accompagnato in questo cammino. Vi chiedo di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati.